Ciao mister, ben ritrovato, sono Sovrani, Radio Bruno e Terrestense. C'è molta attesa per questa partita, vari sono i motivi a partire dalla situazione di classifica per passare attraverso questo cammino altalenante da quando si è arrivato a ottime prestazioni, vedi quella con il Cosenza, vedi quella di Terne, a cui hanno fatto da conto al Taro, alcune partite, ci riferiamo in particolar modo a quella con il Benevento, a quella con il Sudio, in cui la squadra l'abbiamo vista un po' con l'inferno a mano tirato. Poi a Ferrara, i tifosi della Spalle, pensano anche al fatto che si ritroveranno differenti per Clotet. Sì, so che è un allenatore che ha lavorato qui nell'anno passato, è un allenatore che io stimo, al di là di come si è andate a finire poi le cose qui a Ferrara, probabilmente conosce meglio di me alcuni giocatori, perché li ha allenati per più tempo rispetto a me, alcuni giocatori da Spalle, ma insomma quello cambia poco, sarà un piacere stringergli la mano e conoscerlo. Per il resto, dal mio punto di vista c'è sempre tanta attesa per le partite, le vivo tutte con la stessa enfasi, passione e con la giusta tensione. Per quel che riguarda l'andamento, sì è vero, è vero che abbiamo fatto una partita al di sotto di quella che avevamo fatto, del livello che avevamo espresso a Terni, è stata forse la peggior partita, forse abbiamo giocato contro la squadra più forte che abbiamo incontrato finora, escluso il Genoa in Coppa Italia, ci sono anche gli avversari in campo, lo diciamo sempre, però noi dobbiamo essere, come diciamo sempre, artefici del nostro destino, o meglio, artefici della nostra prestazione. Quello che noi vogliamo fare lo sappiamo, dobbiamo metterlo in campo sempre e poi se incontreremo un avversario che dopo la nostra partita fatta in una certa maniera ci batterà su tutti i duelli, ci batterà dal punto di vista del palleggio, della difesa, eccetera, eccetera, vincere la partita, ma c'è rimasto questo sapore agrodolce dopo il benevento. Siamo convinti che se non avessero buttato fuori Patrick probabilmente non avremmo perso, ma l'agrodolce viene proprio in quel momento lì che non avremmo vinto una partita meritandola, non avremmo pareggiato una partita meritandola e alla lunga poi le partite non le vinci. Ne puoi vincere una ma alla lunga è un problema se giochi, come abbiamo giocato noi a Benevento. Per le altre partite ci sono state buone prestazioni, alcune meno, onestamente le prime due così le considero meno perché era tutto in fase di work in progress, come si dice. Ultimamente c'è stata un po' questa difficoltà nel trovare il gol, nel trovare i rifornimenti per gli attaccanti, oltretutto domani ti mancherà anche la mantia, sia sotto il profilo di mettere in condizioni le punti e trovare la via del gol, sia per quanto concerne cosa ti aspetti dai giocatori che girano sul fronte offensivo, cosa possiamo attenderci? Ci possiamo attendere diverse cose, ci sto pensando, ci sono varie soluzioni. Non penso sia un problema soltanto agli attaccanti, ma penso che sia un problema di come li serviamo, di come serviamo i centrocampisti che poi devono servire gli attaccanti. Paradossalmente noi il gol l'abbiamo trovato, sia col Sud Tirol, che è la partita che hai citato tu, sia col Benevento, che è quella di cui stiamo parlando. Tu il gol lo trovi, il problema è che quando lo trovi smetti di giocare. Io a loro ho fatto una battuta, che è una provocazione, abbiamo fatto una grande partita a Terni, perché non l'abbiamo segnato. Probabilmente se avessimo segnato a primo tempo, avremmo giocato lo stesso secondo tempo che abbiamo giocato col Sud Tirol e che abbiamo giocato col Benevento. E questo non dovrebbe succedere, non dobbiamo smettere di giocare, non dobbiamo rintanarci nella nostra area quando si fa gol. Una giocata, se riesce al decimo minuto, in teoria, a meno che non mettano 12 giocatori, riuscirà anche al quindicesimo, al ventesimo, al trentesimo. Dobbiamo aumentare la nostra conoscenza di gioco. Una volta aumentata la nostra conoscenza di gioco, non alterneremo più le prestazioni, magari i risultati sì. Quello non è scontato che con certe prestazioni tu riuscirai sempre ad arrivare alla vittoria, come abbiamo visto a Terni, ma non alterneremo più le prestazioni. Non alterneranno le prestazioni, noi otterremo i nostri punti. Buongiorno, Ministro. Roberto Venazzi, Radio Dolce Vita. Due settimane che sono cadute nel momento giusto, possiamo dire. Quindi ha avuto modo più di prendere contatto con la squadra, senza le pressioni della gara imminente. Ecco, su cosa avete lavorato in queste due settimane? Abbiamo lavorato un po' su tutto, perché quando c'è un po' più di tempo riesci a toccare tutti i tasti, compreso il tasto atletico, che puoi fare dei lavori che magari vengono smaltiti più a lungo termine, a medio termine, diciamo. Però la cosa che mi era piaciuta meno col Benevento era la tranquillità nel giocare una volta uscita la pressione, perché noi siamo usciti dalle pressioni. Una volta usciti dalla pressione loro, cacciavamo troppo lungo la palla, buttavamo troppo queste pallonate. Per quello dico che bisogna aiutare a servirgli gli attaccanti, bisogna servire bene i centrocampisti affinché servano bene gli attaccanti. E la mancanza di pressione sul portatore di palla del Benevento, ci hanno schiacciato. È vero che erano molto bravi nei duelli, è vero che spesso e volentieri, abbiamo visto la partita, andavamo a pressione, poi i vari Farias, Letizia, Schiattarella uscivano dalla pressione. Quello è una cosa che è difficilmente controllabile se incontri un giocatore bravo nell'uno contro uno. Però la mancanza di pressione, la mancanza di pressione in avanti, mi aveva un po' infastidito, l'abbiamo lavorato un po' pure su quello, ma come penso faccia qualsiasi altra squadra. Domani incontrerete un Brescia che sta godendo di una buona partenza di campionato, perché da diverso tempo non sta facendo punti. L'ultimo cinque partite ha fatto più punti la Spal, Brescia ha fatto quattro punti, la Spal ne ha fatti sei. Quali sono le caratteristiche del Brescia che possono mettere in difficoltà la tua squadra? Brescia ha ottimi giocatori, non è un caso se sta lì, probabilmente è partita meglio di come sta continuando il campionato, ma è partita talmente bene che ora può, fra virgolette, godersi o accettare un piccolo momento di pressione dal punto di vista dei risultati, perché poi ha fatto anche delle buone partite, le qualità sono quelle, ha giocatori eccezionali, li conoscete, parliamo di Ndoi, parliamo di Penali, se giocherà, parliamo degli attaccanti che sono sia forti dal punto di vista fisico, sia abili nella profondità, nel gioco tra le linee, hanno qualche infortunato, il che da una parte può essere un vantaggio perché gli manca qualche giocatore forte, ma da una parte nel preparare la partita ci lascia un po' di punti interrogativi in più perché potrebbero attuare due o tre moduli diversi, abbiamo cercato di toccare un po' tutti quanti le proiezioni che possiamo immaginare che loro mettano in campo, ma poi non è che possiamo perdere tutto il nostro tempo a programmare qualcosa che è improgrammabile, perché se loro domani si presentano e giocano 0-5-5 e noi ci troveremo spaisati, quindi insomma noi pensiamo a quello che dobbiamo fare noi, considerando che il Brescia ha ottimi giocatori e rimanendo consapevoli di questo, ma sapendo anche che siamo forti molto anche noi. A quali soluzioni pensi in avanti? Hai la possibilità di far giocare Mancini più centrale che forse è anche il suo ruolo un po' più abituale, un coppio con Filotto, con Rabi, oppure anche di trovare una soluzione con un solo attaccante e i giocatori che giocano sotto punto. Qual è la più gettonata nel tuo pensiero? La più gettonata di stamattina non te la dico perché potrebbe essere quella di domani, però sì, quando noi pensiamo a questa squadra al di là delle squalifiche di Andrea Lamantia in generale, pensiamo anche a delle soluzioni, se le cose a volte non vanno bene noi dobbiamo pensare a tutto quello che può essere un miglioramento tattico di questa squadra. Questa squadra può giocare con due attaccanti, l'ha fatto, l'ha fatto bene con Andrea e Gabriele, c'è Finotto che è un giocatore proprio attaccante, vero e proprio, c'è Rabi che è un giocatore che dà tanta profondità, c'è Raudi che è un giocatore che invece può giocare più fra le linee, si potrebbe giocare con dei tre quarti come Maestro, Zanellato, Tunio, insomma le soluzioni di questa squadra ce l'ha, secondo me la consapevolezza di entrare in campo, cercare gli spazi giusti e servire i giocatori al momento giusto ci lascia aperte tutte le porte, nel senso se noi vogliamo giocare 3-4-2-1, 3-4-1-2, 3-4-3, 3-5-2, cambia in base agli interpreti, ma cambia poco se noi non attuiamo, non mettiamo in campo la nostra conoscenza, il sapere dove sta il nostro compagno in quel momento, il sapere dove andarsi a posizionare affinché il nostro compagno ci trovi liberi, una volta che noi mettiamo in campo questo poi se giochiamo con due punte, una mezza punta, con una punta, due mezze punte, quello cambia, perché i giocatori a volte sono più comodi in determinate situazioni, ma cambia relativamente. vorrei chiederti anche chi è recuperato, credo Arena, se ho capito bene. Arena è recuperato, e chi invece non ha il proprio disponibile. Marco Varnier è convocato, ma starà con la squadra e andrà in tribuna, perché non è ancora pronto al 100%, o meglio, si allena, oggi ha fatto allenamento identico a tutto il resto dei compagni, ma essendo un infortunio, una recidiva, dobbiamo andare con i piedi di piombo e dobbiamo vederlo ancora allenarsi con la squadra, arrivare a toccare determinate velocità che non ha toccato. Alberto Almici non sarà convocato, perché ha sentito indurirsi il polpaccio ieri, oggi ha provato, ma era ancora un po' dolente, quindi Alberto non sarà dei nostri. Buongiorno, Ministro, Alessandro Landini, Lo Spallino. Ieri uno dei suoi giocatori ha fatto una menzione esplicita all'idea di arrivare ai play-off, è chiaro che si parla poco di obiettivi, le chiedo però, da un lato c'è una squadra che crede molto nei suoi mezzi, lei si sarà sicuramente fatta un'idea del potenziale, si discute di obiettivi, si discute di dover essere a un certo punto, a un determinato momento di questa stagione, oppure si naviga un po' più a vista? Si naviga a vista, è brutto detto così, diciamo che parlare di obiettivi potrebbe essere un boomerang, potrebbe essere controproducente, potrei parlare di un obiettivo troppo misero per il livello di questa rosa, potrei parlare di un obiettivo troppo, fra virgolette, utopistico, che poi un giorno che non lo raggiungiamo rimaniamo col cerino in mano, io penso che questa sia una squadra forte, non lo so, parlare di play-off non è una follia, sono lì a cinque punti, noi dobbiamo preparare partita per partita, solo vincere con il Brescia ci avvicinerebbe sicuramente ai play-off, prendiamo tre punti a Brescia, invece che a cinque punti di play-off probabilmente saremo a quattro, a tre o a quello che sarà, se non vinciamo a Brescia dobbiamo guardare quelle che vengono dietro, quindi grande consapevolezza dei mezzi di questa squadra, ma grande consapevolezza anche di quello che è la classifica adesso e di quanto siano importanti i punti, poi se mi chiedi che valore ha questa rosa a 360 gradi, sì, ti dico che è una squadra che per me può starci tranquillamente nelle off, ho sempre odiato quei allenatori che avevano le squadroni e dicevano no, obiettivo alla salvezza, oppure quelli che avevano 39 punti dopo due partite e dicevano no, obiettivo alla salvezza, quindi io sono consapevole di avere una squadra forte, sono anche consapevole un po' di non averla costruita io e un po' soprattutto che siamo partiti abbastanza a rilento, quindi sì, parliamo di playoff, ma parliamo anche di quelle che ci siamo dietro, oppure non parliamo di niente, parliamo del Brescia che è l'unica cosa più logica da fare. Ne faccio una domanda che ne sembrerà una deviazione dal percorso, ma ha il suo senso, glielo garantisco. Chi è il giocatore che ha parlato di playoff ieri? Io non leggo... Peda. Ah, ok. Forse perché è giovane e entusiasta. Bravo, mi piace. perché lei ha menzionato spesso il suo processo di adattamento alla professione dell'allenatore che è una cosa nuova e tutto quanto. Mi ha impressionato un po' decine di giorni fa leggere di Zenex Zeman che in un'intervista alla Gazzetta ha parlato anche di lei menzionando anche che vi eravate trovati in disaccordo e tutto e ha detto due cose. Secondo me, uno che le auguro di trovare la via giusta e si augura lui nei suoi confronti che impari dall'allenatore a guardare più alla squadra che ai singoli. Mi sembra che questa sia una lezione che già sta applicando. Allora, voi siete forestieri non siete di Roma non sapete quanto si è parlato di questo e quanto io non voglio né parlare del passato né entrare in polemica col mister. Io il mister dopo l'ho rincontrato c'è sempre stata cordialità in quel frangente non ci siamo trovati benissimo ma io veramente non ho nessun problema con lui lo ringrazio per gli auguri anche se l'augurio di trovare questa via attraverso capire che un giocatore è più importante della squadra significa che io prima non l'avevo capito e secondo me se lo chiediamo a 3-400 compagni che ho avuto e a tutti gli attiratori a mano allenato la prima cosa che ti dicono di me è che nello spogliato io mettevo davanti i miei compagni soprattutto quelli in difficoltà rispetto all'interesse mio personale da allenatore è ancora più facile questa cosa può essere che da calciatore sia io che qualsiasi altro calciatore abbiamo quel momento di ego di egoismo qualcuno più marcato qualcuno meno perché poi i calciatori sono ragazzi giovani perché poi i calciatori vogliono anche sempre la prestazione individuale mentre l'allenatore come ha detto il mister è schiavo un po' del risultato purtroppo ma anche della prestazione di squadra la sua frase risultato è casuale la prestazione è un mantra importantissimo per me per quel che riguarda il mio percorso di adattamento a questo lavoro se quello è l'inizio il fatto che la squadra sia più importante del singolo siamo già a buon punto però diciamo che dal mio punto di vista anche da calciatore sono stato un calciatore che ai compagni ai allenatori al bene comune del mio club ci ho sempre pensato tanto e credo che mi dispiace che in quella stagione il mister non abbia percepito questa cosa ma se chiediamo a tutti gli altri io credo che ti diranno spesso e volentieri la maggior parte che ero proprio così ultima per quanto mi riguarda durante la sosta uno ha avuto tempo di rilassarsi un po' e diminuire i ritmi due sta dando un'occhiata al mondiale oppure non c'è proprio tempo per farlo vorrei guardare un po' di più il mondiale assolutamente non ho wifi a casa quindi il discorso dei televisioni eccetera è un po' più complicato e ancora siamo un po' in balia dei primi della sistemazione insomma temporanea vorrei guardare più il mondiale ma a volte non ho tempo ieri siamo usciti siamo entrati al centro sportivo la mattina siamo usciti alle 6 e meno un quarto stava finendo il primo tempo di Olanda e Ecuador quindi capisci che è difficile guardarle le partite però probabilmente il momento che gli orari saranno più diciamo serali più tranquilli ovviamente guarderemo di meno c'è anche un pizzico di dolore nel guardare questi mondiali che rimane e che è giusto che rimanga in me e soprattutto in tutti gli italiani che non possono fare il tifo avete altre domande? la prima non me la ricordo che mi hai detto la prima diciamo col corso che sto facendo a Coverciano torna prepara quello prepara quell'altro dove ho proprio rallentato i ritmi però mi sto godendo questa avventura non mi dimentico mai di quanto di quanto ha voluto questo lavoro di quanto sia bello quello che faccio di quanto sia passeggero ieri passeggiavo con Lele il mio collaboratore il mio vice il mio amico e parlavamo di quanto stiamo bene di quanto non è sicuro che staremo sempre così bene in futuro quindi un pochino dobbiamo anche rallentare e provare a goderci il bello che viviamo quotidianamente a questo proposito posso aggiungere un'ultima cosa no vabbè mister mi porta a fare la domanda no perché poco tempo fa Spalletti ha fatto un riferimento a quanto è importante essere ben voluto dai media e tutte queste cose qua nell'essere valutato come allenatore lei da questo punto di vista sta rilasciando un numero improbabile di interviste come si sente a riguardo perché che da giocatore so che non le piaceva particolarmente vieni diglielo come mi sento può venire non è un problema diglielo come ti tratto no non è che detto così è dispregiativo da parte mia nei vostri confronti io non voglio parlare con voi non mi è mai piaciuto tantissimo parlare in generale non ne trovo mai l'utilità non mi sento o meglio so che quando parlo posso dire qualcosa interessante se la dico se mi fate la domanda primo giorno hai provato i cappellacci a Salah Matasugo ok se me la rifare dopo tre giorni è la stessa risposta e così vale anche per il mio modo di ambientarmi per come vivo Ferrara per come ho trovato la curva Ovest tutte queste domande fatte la prima volta hanno un senso se facciamo la stessa intervista ogni volta a dieci giorni di distanza l'uno dall'altro uno non c'ho tanto tempo due mi inizia a dare fastidio proprio la mia voce il vedermi sui giornali tre i giocatori iniziano a leggere tutti i giorni in intervista all'allenatore e dicono ma questo che si pensa che fa ancora il calciatore e quattro c'è c'è sempre più gusto a parlare una volta ogni tanto puoi dare una notizia un qualcosa di diverso quelli che parlano tutti i giorni magari fanno zero a zero come in queste conferenze pregare dove è tutto un cercare di non dirvi la formazione cercare di non dare no a voi a chi la legge non dirvi la formazione non dare una una notizia in più piuttosto che una in meno diventa 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 antipatico quello che dice Spanetti secondo me è sul essere valutati un buon allenatore o meno in base a quanto sei simpatico ai media io non so se lui è simpatico ai media o no a me è simpatico io ho sempre avuto un buon rapporto forse ai media non tanto però credo che a qualsiasi giornalista se gli chiedi che allenatore espo a letti ti dirai che è un grande allenatore quest'anno lo sta dimostrando però non è un discorso di simpatia è un discorso di risultato finale uno che arriva a secondo con la Roma e fa 86 punti viene visto come uno che è un perdente invece per me è un grandissimo allenatore se quest'anno come io gli auguro dovesse vincere lo squadetto con Napoli all'improvviso diventerà un vincente quando invece secondo me il lavoro andrebbe valutato anche in base a altre cose e anche in base a